Acciaio inox e fibra ottica sono i due elementi che danno vita agli spazi di luce cristallizzata che illuminano Palazzo Lombardi. È stata inaugurata la mostra Shining Matrix di Carlo Bernardini, sei installazioni che danno vita, come ci spiega l'artista, ad un viaggio lenticolare nella materia ottica. Cerco di lavorare sulle dimensioni invisibili dello spazio, una logica visiva di plasmare il vuoto e creare una forma dello spazio che si sostituisce allo spazio reale, quindi spesso le mie installazioni inglobano i luoghi per cambiare le coordinate percettive dello spazio e crearne di differenti, di nuovi. Un ritorno, quello di Bernardini ad Arezzo dopo l'esperienza di Castica nel 2014. L'esposizione è curata da Fabio Migliorati. Tutto quello che non possiamo vedere, di conseguenza non consideriamo, Bernardini ce lo mostra, ce lo mostra circoscrivendolo attraverso la fibra ottica, quindi la luce serve per illuminare. È banale ma lui lo fa sembrare creativo e lo fa diventare artistico. Le sculture sono ospitate all'interno della Sugar Gallery, dove le installazioni di Bernardini incontrano la storia con gli splendidi mosaici di epoca romana. Il tempo stratificato, quello che succede, il mosaico del primo secolo, le fibre ottiche del futuro, sono connubi che ci aiutano ad andare avanti, a pensare al futuro veramente.